Siamo con l'assessore Ercole Fossale e volevamo sapere come procede la questione dei buoni per i servizi degli esili nido. Sì, procede io spero per il meglio, atteso che ci siamo fatti dare dalla regione 64 mila euro per i didi privati e il primo rimborso nella fase dal 1 gennaio al 30 giugno 2013, il primo bando ha visto soltanto il rimborso di 11 mila euro. Già incassati fra l'altro, come ho potuto dalle famiglie, è soltanto che rimangono adesso la differenza e questo potrebbe creare nella regione Piemonte un po' di sconcerto perché noi dovremmo restituirli. Non mi è sembrato il caso, ho voluto rimettere in piedi questo bando, trattandosi di un rimborso sul 2013, da settembre, di chiusura del servizio nido privato dal settembre al 31 dicembre e spero di poter far fronte a tutto anche perché abbiamo dato e si rimborsano 150 euro a famiglie per chi ha l'ISE fino a 5 mila euro, 100 euro a famiglia per chi l'ha fino a 25 mila e poi abbiamo pensato diamo anche qualcosa oltre, 50 euro al mese. Io penso che su sei mesi, su quattro mesi, dai 200 ai 300 euro di rimborso non siano cose su cui uno ci rinunci quando ne ha diritto perché se poi dovessimo avanzare ancora a questo passaggio io invito le famiglie ad evitare che restituiamo dei soldi che sono loro, sono loro di diritto. Quindi non c'è presentare l'ISE che questo porti a strane sensazioni di essere controllati o meno, facciano questo piccolo passo, questa domanda entro il 31 marzo 2014, entro le ore 12 del mattino a portare questa domanda e la documentazione che hanno ricevuto e di ciò che hanno pagato e ne avranno diritto. Io spero di non dover restituire la differenza, cioè che sono più di 50 mila euro alla Regione quando avevamo ottenuto questo proprio per i nidi privati perché io non faccio soltanto l'assessore a nidi pubblici, rappresento anche i nidi privati.